Ben a tutti ragazzi qui il vostro ArtCabers, siamo qui in questo nuovo commentary, oggi siamo qui perchè l'update di Destiny è appunto arrivato ieri sera e ha offerto un pochino di cose da fare, non tantissime, ovviamente come un pochino già si aspettava e comunque come un pochino io pensavo già da un po' di tempo perchè non poteva essere un update veramente assurdo, però un po' di attività ce l'ha portata e per prima cosa ci siamo dedicati a fare le primissime queste di Variks che sarebbero una pregione al 41 e le missioni storia che poi ti portano all'assalto nuovo, ovviamente la mia il gatto ha deciso di morire mentre li stavo giocando quindi però troppo non li ho per voi, sappiate che la prigione al 41 è veramente facilissima, è come una prigione vecchia dell'anno 1 però con i nemici di livello se non sbaglio 40 di luce 260 che danno giusto qualche ricompense, l'emblema nuovo e se non sbaglio un engramma leggendario per quanto riguarda la missione nuova è giusto una missioncina, una piccola parte da fare sia non sbaglio in pattuglia o comunque ovunque si vuole e alla fine ci si porta al nuovo assalto che è carino, abbastanza figa la parte finale, per adesso l'assalto si può schippare alla metà, tipo tutti i nemici in mezzo noi li schippiamo sempre, anche se è un suicidio lo facciamo per comodità ci siamo poi dedicati a fare la prigione al 42 che è fatta da 3 round con 3 boss, c'è il modificatore anche per far aumentare i punti per quanto riguarda il sigillo di Varix che serve ad ottenere un'arma quando si ha 30.000 punti e un'armatura a 90.000 abbiamo completato la prigione senza troppi problemi anche se a 320 noi eravamo tipo tutti a 321 o 322 quindi abbastanza tranquillamente abbiamo fatto anche i 30.000 punti e ci siamo beccati un'arma da Varix, io purtroppo ho trovato una terziaria quindi l'ho infusa sulla spada, era a 325 quindi è solo la mia bellissima spada di fuoco a 325 per quanto riguarda il resto degli armamenti che mi sono portato su ho livellato un casino la nuova monarchia tramite le particelle di luce perché i pacchetti delle fazioni danno oggetti di livello luce molto molto alto un'altra tecnica sarebbe avere degli engrammi esotici da parte, quello che ha fatto un pochino Deja trovando un botto di roba io inoltre da un engramma esotico che ho ottenuto grazie a un 3 di ori ho trovato un tempo e pazienza a 324 per dire perciò bisogna basare su questo e in fondo diciamo un pochino tutto adesso ho un petto a 327 dalla nuova monarchia, ho due secondarie a 327 grazie appunto alle secondarie che ho trovato sempre dalla nuova monarchia, ho fatto tipo 12 gradi, ho speso mille particelle di luce è stato veramente assurdo ma ne è valsa la pena perciò adesso sono a 322 di luce, aspetterò un paio di giorni adesso abbiamo fatto anche un calanotte che porterò magari domani sul canale, intanto mi sto dedicando a fare gli altri calanotte per quanto riguarda gli altri pg e sicuramente adesso ci metteremo a fare i raid, vedremo un pochino di recuperare la solita routine di destiny per fare più cose possibile anche perchè appunto adesso che ho liberato le fazioni ho usato molti materiali e vorrei un pochino recuperarli perciò riprendiamo il solito ritmo, io come ho già detto porterò diversi video e speriamo che questo update sia almeno un pochino duraturo, per adesso abbiamo fatto non dico tutte le attività però ci siamo andati vicini, però ci sono molte novità per quanto riguarda anche il crogiolo e altre piccole cose quindi vedremo un pochino di spolparle tutte in questi giorni perciò ragazzi indietemi se voi avete ripreso a giocare a destiny, ho giocato anche a The Division, un nuovo aggiornamento è veramente fighissimo quindi ci saranno dei video anche nei prossimi giorni su quello, quello anche dato che non ho ancora fatto l'incursione essendo nuovissima è anche abbastanza difficile e avendo anche livellato giusto un pochino grazie al nuovo update avrete dei video nei giorni successivi, per adesso godetevi destiny perciò ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale e noi come al solito ci diamo un prossimo video, un abbraccio, alla ciao ciao ciao